Io in AID dove abbiamo attori hard e attori classici mischiati insieme e l'idea è stata proprio questa, cioè che gli attori classici anche potessero fare delle parti hard e gli attori non hard, cioè gli attori hard scusami, sperimentare anche una recitazione diversa quindi drammatica eccetera eccetera. Molti mi hanno detto perché non li hai doppiati? Sicuramente la gemma rendeva meglio doppiata, sicuramente alcuni rendevano meglio doppiati però il discorso era lo stesso. Abbiamo fatto un esperimento, un crossover di generi e di persone quindi perché se l'attore di teatro non si mette il fallo finto devo mettere la voce finta all'attrice hard? Cioè stanno giocando tutti con le carte scoperte, quindi uno si mette in gioco in un modo l'altra si mette in gioco in quell'altro e secondo me l'interessante del film è questo invece del vedere Ema la dizione, che stiamo sempre lì nel discorso, stiamo sempre qui stai a vedere la dizione. Io non credo che in America criticano il film di Spike Lee ovviamente faccio nomi grandi perché nell'indipendente non li conosco però non credo perché gli attori parlano in slang e non in un perfetto americano, capito? Cioè non penso che stanno a rompere il calzo perché ma quelli parlano in slang ma perché la gemma non può parlare con l'accento romano? Cioè ma dove sta scritto che bisogna parlare tutti come una soppopera di merda? Cioè voglio dire l'Italia è grande, abbiamo tante regioni con tante sfumature linguistiche diverse allora se io ho l'attore napoletano, perché anche questa è la cosa, l'attore napoletano se gli fai fare le cose comiche o mafiose funziona e così il siciliano il fiorentino deve far ridere e il toscano quindi lo accettiamo per certe cose quindi anche i nostri accenti sono accettabili se utilizzati in uno standard se li inseriamo in una categoria, se li mettiamo fuori contesto perché il protagonista parla in toscano ma è drammatico il ruolo, non fa ride ma l'Italia magari è ambientata a Firenze il film e magari facciamo parlare con il loro accento quindi se stiamo a Roma magari una che parla romano è anche abbastanza logico che sia così quello è Adam Ford, tra l'altro regista di Il Museo della Carne e poi di Torment il secondo capitolo della trilogia della morte quindi attore hard, regista hard ma non solo la scena è una scena hard vera, una ruberta pratica questa fellazio e poi abbiamo semplicemente sostituito il pene con una protesi di silicone e basta, questa è abbastanza facile di suo all'inizio quando inizi a mordere e cola il sangue è sempre il pene vero quindi lei ha il sangue in bocca e lo comincia a rilasciare e poi per il momento dello stacco abbiamo utilizzato questa protesi la scena quella di ago e filo che dici tu lì siamo io e Poison che omaggiamo una nostra performance di body art quindi il body sewing si chiama così non è una novità, ne l'abbiamo inventata noi io e l'attrice che insomma si chiama Poison è una collega che poi ha diretto il quarto American Guinea Pig prodotto da me veniamo comunque dalle performance di questo tipo insomma quindi quando io ero un po' più giovane soprattutto facevamo teatro, facevamo appunto questi side show questi show paralleli al, no? in un cabaret di sangue praticamente dove si mischiava il concetto di falso e vero che poi è quello che è presente in House of Flash Mannequins in Flash Mannequins la particolarità è che lì le scene di tortura non tutte chiaramente sono comunque reali e chiaramente non significa che abbiamo torturato nessuno ma quelli erano dei performer di body art che hanno semplicemente inscenato in maniera diversa le loro performance, no? quindi quello che normalmente avveniva abbiamo semplicemente usato strumenti diversi una messa in scena diversa per dare l'effetto della tortura ma guarda io di base non uscendo in sala non ho nessun problema con la censura nel senso che il visto censura è obbligatorio per i film che hanno i passaggi in sala io ho fatto la scelta di non uscire tanto meno in Italia ma anche in DVD figurati della sala quanto me ne può fregare ci sono stati due episodi comunque dove ho dovuto fare il visto censura perché film come Red Crocodile e Poe hanno avuto dei passaggi cinematografici e Red Crocodile ha avuto il divieto 14 anni perché comunque la motivazione del 14 è stato perché insegna come si può preparare in casa una droga tenendo presente io la ricetta l'ho trovata su internet quindi insomma voglio dire censuriamo internet ma non il mio film però insomma è andata bene mentre invece Poe fu un caso nazionale all'epoca perché fu vietato ai minori di 18 anni un film dove non c'è nudo, non c'è sesso, non c'è violenza, non c'è sangue è stato vietato ai 18 le motivazioni della censura sono state proprio la costante atmosfera di alienazione di confusione fra realtà e allucinazione insomma che era disturbante cioè i motivi per cui Poe si studia anche nelle scuole quindi non l'abbiamo censurato perché è troppo Poe un film dove effettivamente non c'è ti ripeto nulla di censurabile e la cosa carina anche è che dovettimo fare la dichiarazione che il gatto nero nell'episodio di Paolo Caudio che è di plastilina visto che Paolo Caudio lavora con la plastilina quindi questo gatto di plastilina dell'episodio in stop motion non aveva subito alcuna violenza e io gli ho detto a Paolo guarda io non lo so se poi effettivamente non ha perché comunque insomma un po' di violenza sto gatto la diciamo che l'ha subita perché manipola di qua e leva l'occhio di là secondo me un pochino sì insomma però sì abbiamo potuto fare dal momento che nel film queste sono le leggi italiane che quando non serve proprio te le applicano perfettamente però siccome ci sta il gatto allora devi fare la dichiarazione che il gatto non ha sofferto io gli dicevo a questi tecnici ma guarda sicuramente hanno sofferto più alcune persone presenti nel film che il gatto è finto capisci eh ma bisogna la legge vuole che è così tra l'altro stiamo parlando di un sistema di modulistica ancora con la carta cioè sì che altro cioè io ti ripeto firmo contratti online con firme digitali faccio videoconferenze molte delle persone con cui lavoro non le conosco proprio nemmeno di persona Tony Newton con cui abbiamo fatto tre antologie di produzione insieme Biro della Nerded Films che distribuisce i miei film cioè non ci siamo mai visti di persona ma onestamente manco mai una videochiamata in questo caso via mail, messaggi, contratti qui già solo per arrivare a firmare un contratto devi fare venticene 40 incontri e se non nemmeno solo con le persone interessate ma anche con tutti tutto l'entourage cioè è un modo di lavorare che a me mette ormai ansia davvero perché quelle poche volte che mi dicono collaboriamo con l'Italia io comincio già a pensare a cene incontri infiniti meeting pomeriggi persi a parlare di niente di di io lo farei così io invece colà io così e alla fine non lo fanno comunque in nessun modo io venni contattato da una produzione importante che mi dissero beh tu sei molto bravo con la fotografia sei molto bravo con con quello quell'altro c'hai il senso delle inquadrature non so ma te interesserebbe fare una commedia? beh io stavo lì così con la io ma commedia come? scusa in che senso fa una commedia? e vabbè penso che sarai capace di dirigere una commedia a parte che non è ti dico non è così automatico perché anzi forse far ridere è molto più difficile che spaventare dipende anche dalla scingiatura dagli attori che c'hai è sempre tutto dipende ci si potrebbe provare ma che commedia? beh la commedia all'italiana ma io ho detto beh oddio aspetta mi può anche intrigare la cosa perché io mi dici commedia all'italiana e penso a De Sica ma anche volendo pensare meno penso a Martino e Cornetti alla Crema pensi a Salce pensi cazzo ne so insomma io mi dici commedia all'italiana penso determinate cose e ti dico quasi sono intrigato e poi il concetto di commedia all'italiana invece era tipo notte prima degli esami andando anche un po' più verso altre cose al che dico no cioè onestamente allora no non so capace di sicuro ma perché anche lì ho avuto amici non faccio nomi che poi hanno fatto questo tipo di film di scelte hanno preso dei soldi hanno lavorato con bei cast hanno avuto distribuzione per esempio Medusa tanto per farti capire innanzitutto con quei soldi che sono tanti in quel momento non ci non è che ti ci sei svoltato la vita perché non è che ti danno 3 milioni di euro per cui dici ragazzi fatto sto film posso anche smettere e da qui in avanti campo di rendita e mi faccio le mie produzioni indipendenti ti danno quel tanto che puoi vivere uno o due anni senza lavorare il problema è che poi questi qui non hanno lavorato per 10-15 anni perché fai un film del genere chiaramente il film va come non va e non ti richiamano a lavorare e stesso accadde poi per Paolo Franchi per dirti che in uno magari il risultato non era buono non lo dico però Paolo Franchi per dirti con nessuna qualità agli eroi stiamo parlando di un Golden Globe stiamo parlando di quello che ha lanciato Elio Germano stiamo parlando di un film che è stato definito dalla critica internazionale come il nuovo gli sconti Paolo Franchi ha fatto questo film da 3 milioni di euro chiaramente un film bellissimo tra l'altro non so se lo conosci con i re Jacob e il re Elio Germano e Paolo Franchi dopo quel film non ha più lavorato per oltre 12 anni finora la chiamano estate passiamo da 3 milioni di euro a un low budget con Isabella Ferrari se non erro molto acclamato un artista vero così che però non ha più lavorato perché quei 3 milioni di euro non sono mai rientrati perché il film non ha incassato quella cifra perché era un film troppo troppo bello e quindi chiaramente troppo bello troppo intellettuale all'estero va in Italia lo mettiamo in 2-3 sale in momenti di pure estivi e poi ti lamenti che non incassa e quella persona penalizzata a non lavorare più per anni cadendo in depressione eccetera perché hai fatto un film troppo bello la tua colpa è che hai fatto un bel film e non vuoi fare il bel film capito? allora vale la pena accettare certi rischi per poi non lavorare più e tra l'altro lui io gli dissi perché non ti metti a fare roba più indipendente anche o chiedere tu pensi che io non farei anche il filmino a due soldi è che quando vai alla produzione piccola eh ma tu sei un artista troppo grosso tu hai bisogno di no? gli dicono io farei anche no no ma tu sei capito? gli fa paura sei troppo grosso cioè non puoi fare un film con centomila euro capito? tu hai fatto e poi vai alla produzione più grande no no ma tu ci fai perdere i soldi cioè ti metti in mani i soldi tu chissà se ce li fai il famoso lei è troppo qualificato per questo lavoro eh lei è laureato ma qui noi cerchiamo un semplice una semplice datilografa no? eh ho capito e sei troppo qualificato non va bene e sei poco qualificato non va bene non si sa che cazzo devi fare per lavorare no? e però purtroppo conosco tanta gente che si è fatta questi poi si è fatta la gola dicendomi ma poi con i soldi poi con il nome no? mi faccio mi faccio il film che voglio io e non ho lavorato più il primo set che ho visto ufficiale era quello di Lenzi quindi ti devo dire attori stranieri professionisti stranieri erano gli studi della De Paulis quindi comunque insomma un impatto di una vecchia scuola innanzitutto poi Romano Scavolini che non ti dico e poi lavorare il primo film in America ovviamente è un altro mondo quindi il mio aver lavorato lì a Los Angeles e poi tornare in Italia per me è stato mantenere e applicare quelle cose c'era mi ricordo questa produttrice Chris Beale la produttrice esecutiva sul set che era disperata per quanto il set era abbastanza ordinato ma sai il direttore della fotografia è che si va a fare la sigaretta tra un Chuck e l'altro si va a fare la sigaretta questa era impazziva questi fumano mentre lavorano capito era una roba inconcepibile questi fumano mentre lavorano bevono mentre stanno lavorando da noi è normale che addirittura anzi questo si allontanava perché lì poi le regole antincendio e cose non ti permettono di rimanere sul set con la sigaretta devi proprio uscire però già sta cosa che tu appunto farà un Chuck e l'altro magari per andarti a fare il tiro si esci lasci il set è una cosa inconcepibile qui è l'ordine del giorno anzi qua ti fumano mentre stanno alla macchina proprio e c'hanno la birra e c'è gente che viene avanti indietro a trovare il regista si fanno il caffè per quello che ti dico io per me questi sono set inconcepibili cioè per me quando io giro non mi viene a trovare nessuno i telefoni sono spenti non si fanno selfie non ci stanno e tra l'altro è una roba che metto anche per contratto uno perché non voglio proprio che girino foto che magari ci sono trucchi particolari cioè non è che io posso svelare a fine del film o il tuo personaggio perché tu ti devi fare il selfie però è proprio un atteggiamento sbagliato cioè secondo me quando si entra sul set fino alla fine il tuo telefono lo lasci da parte le tue telefonate te le lasci da parte se devi salutare la tua madre gli mandi il messaggino gli dici ci sentiamo stasera ma siamo lì per fare una cosa che tra l'altro voglio dire ci soliamo sicuramente ci soliamo ma ci soliamo dieci giorni quindici giorni poi c'hai tutti altri trecento quaranta giorni durante l'anno per farti i cazzi tuoi anche perché non è che fai film ogni mese quando lo fai quando ti capita di farlo fallo proprio pienamente dedica la tua attenzione a quello che stai facendo insomma quindi ti ripeto io mi trovo in un ambiente che è un piccolo microcosmo dove mangiamo insieme stiamo insieme viviamo gli stessi spazi e c'è molta armonia insomma anzi c'è anche molta collaborazione perché tra l'altro nessuno fa solo un ruolo è capacissimo che l'attrice quando non gira fa altro dà una mano sul set a fare altre cose cioè ognuno si si tiene comunque impegnato non esiste il io questo non lo faccio e questo lo per esempio Domiziano Arcangeli che ha prodotto Flash Manikens quando venne a girare le sue parti anche in Italia una cosa che mi cioè uno che comunque ha lavorato con vari registi anche da Fellini Tinto Brass e poi arrotola i cavi insieme all'elettricista cioè non esiste io quello non mi spetta quello non mi compia di il produttore che arrotolava i cavi insieme all'elettricista perché questo significa fare un film qui non ti ascoltano proprio capito e poi dopo ti richiamano io ti devo anche dire esperienze di Red Crocodile quel film c'era già un anno prima dell'uscita al cinema cioè esisteva già lo avevano già visto e mi hanno detto ma che ce facciamo che un film è così a chi interessa questo film a qualcuno non interesserà insomma adesso che è riuscito in America di nuovo sta avendo una seconda vita cioè sembra quasi che il film sia nuovo recensioni strapositive continuo a ricevere tag gente che gli è arrivato il Blu-ray nonostante tra l'altro sia un film molto diverso da quello che la Unerted presenta loro presentano horror molto estremi molto sanguinosi Red Crocodile non è un horror e tantomeno a sangue nonostante tutto dicono non è il film che mi aspettavo dalla Unerted ma comunque bellissimo film qui invece se non è il film che volevo io fa cagà automaticamente e quindi insomma a chi interessa sto film un anno dopo stavo in macchina con un'amica parlando del servizio che fecero sulle Iene per la droga Crocodile che era arrivata in Italia e stavamo parlando di questo hai visto che alle Iene hanno parlato della cosa su cui hai fatto il film in quel momento mi suona il telefono e vedo il nome del distributore gli ho detto guarda ha visto il servizio delle Iene rispondo e ma ce l'hai ancora quel film no bellissimo perché veramente bello sarebbe interessante farlo uscire così poi per carità lo fecero uscire in sala pure siamo andati da Marzullo abbiamo fatto un po' di pubblicità di promozione però ecco perché l'hanno distribuito perché in televisione si era parlato della droga allora abbiamo il film della droga di cui si parla in televisione perché la televisione adesso è la nuova mecca se vai in televisione sei allora sì quindi sicuramente svoltiamo ma quel film esisteva già è lo stesso film che un anno fa mi hai detto che cazzo ce fanno quindi non valutano cioè tutto questo potenziale che adesso hanno trovato in America poteva essere sfruttato qua adesso il film si può dire che è diventato un piccolo cult e sta spopolando e ti ripeto anche tanto e poteva essere preso qui ma non ce la fanno qui qui si fermano sul discorso di ma è lento ma c'è il nudo ma c'è la scena che uno caga sangue ho capito ma stiamo a raccontare di una droga che ti mangia dall'interno e dall'esterno cioè come la vogliamo fare oggi il problema è che in un film come Amore Tossico o Cristiana F non li produrrebbero di nuovo se lo facessero sarebbero dei film totalmente edulcorati perché questo sì questo no questo si fa ti ripeto come il mio primo film non c'è il lieto fine cioè tu ti devi stare a preoccupare allora per fare una sceneggiatura che sia prodotta e cambiamo questo cambiamo quello allora ti ripeto tembriamo il cartellino ma vado a fare un lavoro sicuramente più remunerativo non vado a fare questo e vedo ho amici che lavorano ti ripeto nel cinema e al cinema quello dove mettono i soldi le produzioni eccetera eccetera dove tutti sono pagati con i contributi ma io non cambierei mai ne ho incontrato uno proprio ci siamo incontrati per caso dal barbiere era stressatissimo disperato sono otto mesi che il film è finito e non si sa che fine fa che continuano a litigare in produzione perché uno vuole una musica o non ne vuole un'altra no non fa per me cioè sul mio film le musiche si fanno come dico io i miei attori ce li metto io e lui si aveva un ottimo script perché d'altro mi aveva chiamato per collaborare per fare gli effetti speciali non è stato possibile farlo perché poi da che doveva essere febbraio il film lo hanno finito a girare a giugno io avevo già altri impegni e quindi non potevo proprio accettare allora alcuni dei miei film sono edizioni da collezione quindi hanno un costo più elevato perché sono edizioni speciali sono numerate presentano all'interno magari dei packaging particolari eccetera eccetera cioè quella di Po2 siamo arrivati ad avere prezzi di 50 euro 60 euro ma insomma parliamo di DVD e Blu-ray edizione numerata tre copertine a scelta libro all'interno insomma voglio dire su edizioni particolari se no stiamo intorno ai 20 dollari tieni presente che i film che trovi in Italia sono di importazione quindi al costo del DVD ci metti il ricarico del venditore più le spese di spedizione che loro hanno sostenuto per avere il film quindi un film che costa 20 dollari e quindi può costare 17-18 euro come costerebbe qualsiasi DVD ci metti la spesa di spedizione dagli Stati Uniti quindi ci aggiungi in altre almeno 10 euro sopra ci aggiungi il ricarico del venditore perché non è che faccio da filtro cioè compro il film lo paghi paghi le spese io non ci guadagno una mazza fai che ci mettono quei 3-4 euro sopra pure loro ecco lì che arrivi a pagare un film pure 30-35 euro perché quelli che trovi in Italia sono di importazione chiaramente so che vendono perché per esempio mi diedero delle cifre sia Bloodbuster che negozi come Trauma che sono i punti di riferimento maggiori cioè solo loro insomma comunque un bel po' di copie se le vendono quindi penso a una lab locale quanto ci potrebbe forse guadagnare tieni presente che fare un DVD oggi costa poco e niente insomma mille copie guarda possiamo arrivare a dirti addirittura io ti parlo del 2010 5.000 copie compresa la spedizione la SIA e tutto quanto non costavano nemmeno 4.000 euro qui c'è il concetto che tu fai il film e poi lo devi regalare alla critica che il più delle volte sono persone che scrivono con la scusa di scrivere neanche tanto bene per scroccarsi i film eh ti metto ti scrivo su rivista lì ti scrivo sul sito là poi ti trovi recensioni di 5 righette e intanto tu hai dato un'anteprima e all'inizio lo facevo perché ti sai poi ti rendi goto insomma che effettivamente non funziona così io le critiche che ho all'estero me lo chiedono mi chiedono se devono pagare il link o spesso neanche accettano lo screener dei film che stanno in uscita si comprano direttamente il DVD quindi non gli devi passare nulla qui è tutto dovuto gli devi dare gli devi dare gli devi dare e poi ho scoperto anche di recente che ci sono anche recensori di siti un pochino in vista quindi non siti amatoriali blog che chiaramente ai blog io non fornisco i film ma per un semplice motivo tra l'altro gli dico sempre perché poi io passo sempre da stronzo però se tu hai ci piace il sangue punto blog punto cataweb punto it io non ti do un'anteprima anche perché dare l'anteprima di una recensione a te oltre che mettere il film in una mano che non so chi cazzo sei chiaramente mi brucio magari un'anteprima su repubblica cioè se io do la clip in anteprima panorama cosa che per esempio è successo per Red Crocod e mi pubblichi su panorama con la clip non me la prende se io la clip la do prima a sitarello capito del cazzo quindi chiaramente non ti posso dare un'anteprima perché a me essendo la promozione una fase importante in un film dare l'esclusiva a dei siti importanti mi dà più speranze che loro attirati dall'anteprima lo pubblicano quindi non la bruci però rispondo sempre ci sono tanti film vecchi che puoi recensire no? allora te li posso passare tanto sono usciti no vogliono assolutamente la cosa nuova e alcuni siti come ti dicevo che poi ho scoperto che nei blog di facebook gruppi chiusi eccetera si passano i link dei film in anteprima quindi mi hanno mandato screenshot così quando ho visto che determinati nomi anche noti di siti anche noti fanno questo giochino sui gruppi chiusi di facebook che per fare i fichi con gli amici ti danno in anteprima i film io non do più film a nessuno in Italia a parte 2-3 persone che conosco proprio bene il nostro cinema dagli anni 80 non conta più un cazzo cioè facevamo scuola abbiamo fatto scuola abbiamo esportato capolavori attori nomi adesso che esportiamo? non c'è più un attore esportabile non c'è più un attrice esportabile non ci sono film che superano le Alpi cioè a parte le mega superproduzioni di Sorrentino e poche cose che vincono l'Oscar come miglior film straniero tra l'altro ma al di là di quello il nostro cinema non è esportabile non c'è più la cioè American Pie fa ridere in America e volendo può far ridere anche in Italia tant'è che trova il suo pubblico il film di Zalone noi che facciamo lo doppiamo e lo esportiamo a chi fa ridere cioè queste tematiche chi toccano quello è il discorso cioè la commedia di Natale la doppiamo la portiamo in Francia tolti quei personaggi televisivi non resta niente non c'è il film ripeto io rispetto anche Vanzina perché comunque è l'unico che ha tenuto in piedi un'industria quindi tra l'altro Vanzina è uno che il cinema lo sa fare lo ha dimostrato ampiamente quindi se vuole fare il bel film lo può fare tranquillamente lui pensa a fare business tra l'altro ti ripeto dando lavoro a tantissime persone mantenendo in piedi un'industria è un peccato che non ci sia l'alternativa io non condanno il film di Natale perché ci sono sempre state le commedie becere c'è stato ci sono state quelle di Pierino però ecco diciamo una volta c'era Pierino c'era il film di Pierino c'era Cornetti alla crema e c'era il film di Pasolini adesso c'è solo il film di Pierino non non c'è l'alternativa insomma e purtroppo questo perché i distributori una volta erano produttori e distributori erano uno persone che mettevano i loro soldi quindi facevano investimenti di cui avevano cura adesso i produttori e distributori sono diventate persone molto abili nel raccogliere sponsor e soldi dalle banche quindi i soldi non sono i loro se il film esce bene se non esce sti cazzi tanto abbiamo guadagnato lo stesso quindi il futuro del film non c'è perché non c'è nessun problema di dover rientrare effettivamente di determinate spese diventa un'operazione che vabbè è andata bene è andata male se ne fa un'altra si ricicla avanti il prossimo quindi un'industria che fagocita proprio le persone che ci lavorano senza pietà senza umanità e soprattutto però sono spesso o persone che hanno ereditato queste distribuzioni queste case di produzione che le hanno ereditate o sono i figli eccetera ma gente che magari ecco Carlo Ponti era una persona che aveva la passione per il cinema che aveva una cultura cinematografica e che produceva determinate cose oggi no oggi è gente che si ritrova in mano un'industria perché l'ha ereditata l'ha rilevata e di cinema basicamente non capisce niente e crede che il pubblico abbia i suoi stessi gusti quindi cioè al pubblico vuole vedere tette il pubblico vuole ride il pubblico vuole che è poi quello quando vai a presentare i film insomma che ti fanno le domande più assurde per capire se loro hanno questi margini di vendibilità perché il pubblico vuole questo purtroppo questa gente cosa vuole il pubblico non lo sa perché per vedere cosa vuole il pubblico basterebbe vedere i box office e vedere cosa sta andando quando ti dicono in Italia vai a un distributore e ti dicono ma l'horror non vende io gli apro il giornale e gli dico guarda 70% della programmazione attuale sono film horror eh ma non so italiani che vuol dire che vuol dire